Ciao. Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Reazione davvero incredibile e piena di ira quella avuta dall'ex GFino Daniele Dal Moro. Scoprite a chi sono stati gli insulti e come hanno reagito i social. L'ex GFino Daniele Dal Moro è ancora concentrato nel raccogliere fondi per la causa contro Mediaset. Data la sua a suo dire espulsione ingiustificata al grande fratello Vip. Da qualche settimana ha aperto un canale dove poter chattare e interagire con amici e fan e allo stesso tempo. Aiutarlo per la controversia legale contro la rete gestita da Pier Silvio Berlusconi. Ad aver suscitato l'ennesimo waltzer di commenti contro la sua persona. È stato un video nel quale si sente distintamente Dal Moro. Pronunciare una parola fortemente condannata anche nel reality show. Ad aver creato indignazione l'utilizzo che ne è stato fatto. L'insulto di Daniele Dal Moro. Grazie a un profilo su Twitter che vedete nella foto in basso è stato ripreso l'esatto momento nel quale Daniele Dal Moro. Ha pensato bene di utilizzare il termine, ritardati, per indicare le persone ancora presenti nella chat. Una reazione non solo esagerata. Ma che poteva essere affrontata in maniera differente. Queste sono le esatte parole pronunciate da Daniele Dal Moro in diretta. Uscite da sta chat. Basta spammare messaggi quando la chat è finita. Sembrate dei ritardati. Ve lo dico. Ve lo assicuro. Ci sono i miei amici che mi scrivono. Ma questi che cazzo fanno? Stanno male? Ma hanno ragione. Ragazzi. Io lo dico per voi. L'indignazione sui social. L'ennesima polemica che vede coinvolto Daniele Dal Moro sta generando molti attacchi sul web. L'uscita infelice, per non dire altro, nel chiamare i suoi follower, ritardati, ha suscitato l'indignazione di molti. I commenti del resto, sotto a questo tweet, che ha ripreso l'audio di Dal Moro mentre usa quel termine, sono tutti sulla stessa riga. Arrogante, insopportabile, la gente che gli va dietro, la più idiota di sempre, scrive un utente su Twitter. E un altro aggiunge. Lui ha sempre insultato i suoi fan. A partire da quando era nella casa quando parlava con Martina, nelle room, su Twitter, ovunque. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.